Mellaro un po' allontanare, infatti ci riesce anche se il pallone va dalle parti di paresce. Penso al tiro il numero 37 Corso e poi la traversa che parata da parte di Corso. Va a girarsi la gira per Paparella col bacino e ancora incredibile, un miracolo pazzesco, due volte Lucci, la seconda con i piedi. L'ho già battuto velocemente dal Cottini che prova a entrare in area di rigore con Di Vittorio che l'appoggia lì, Super Mariani, leva dall'incrocio, una palla incredibile calciata da Croce. Se poggia da Severini può pensare anche al tiro, con il mancino va Severini, ma che parata da parte di Ripani, ha levato praticamente il pallone dal set. E' il compagno da storico, per aver chiuso i fagioli, poi la rosa in due tempi. E' perfetto il puntino del cotton.